Permetto che io sono soltanto la punta di un iceberg di enti e di associazioni che coinvolgono il territorio e che collaborano con l'ente proprio per dare una risposta adeguata a queste persone che hanno bisogno del nostro aiuto specialmente in questo periodo dell'anno. Parte l'emergenza freddo che è un progetto già ormai collaudato negli anni che ha portato molti risultati e soprattutto darà risposta a queste persone al di là della loro provenienza proprio perché abbiamo attuato due percorsi differenti, uno per le persone che hanno bisogno del nostro aiuto che sono locali, uno per le persone che provengono da altri paesi. Questo è grazie a una collaborazione fattiva con la prefettura. Ricordiamo che poi c'è anche un numero. C'è un numero che poi daremo in sovraimpressione e anche c'è la possibilità da parte dei cittadini attraverso la nostra farmacia di via del lavatorio e piazza Oberdan di poter consegnare e donare alcune coperte alcuni indumenti laddove poi in realtà ce n'è tanto bisogno e quindi siamo anche così convinti che anche questo tipo di supporto potrà dare una risposta adeguata. Parliamo di numeri, sono in crescita o emergenza praticamente? Com'è? I numeri più o meno sono sempre quelli. Diciamo che ormai conosciamo nome e cognome di queste persone perché ciclicamente ormai arrivano nel nostro territorio e quindi li conosciamo personalmente e quindi sappiamo benissimo poi come affrontare questo tema. Non c'è in questo momento un numero che è superiore a quello degli alteriani. Più o meno siamo negli standard.